Il vero problema In questa zona elettorale, scopi della pira Perché cos'è? Odo le girando, le metto e mi fango nel respiro Esi sistemi operativi, io preferisco la pira Se la sale pira, il passivo La potenza è una cosa da supervi E poi i corotivi di si fanno in fretta e leggervi E poi i corotivi di si fanno in fretta e leggervi E le persone provinciali sono tutti un po' comune Sono tutti un po' comune Mi interessa essere capito 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 Le votazioni gli indecisi sono decisivi I colletti bianchi stavano in manche di collettivi E gli salverai dappertutto, se i si si Il mio ultimo piano sarà salire sul terrazzo Chi guardagnanno a vivere, non guardagnano a morire Come saluto rap, andrà tra l'altro quando arrivano gli ultimi per fare i conti con tutti, ma non fatti così dire No, no, non fatti così dire Non fatti così dire Non lo voglia di andare d'accordo o voglia di andare D'accordo D'accordo Non lo voglia di andare d'accordo o voglia di andare D'accordo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.